Ci sono individuati un portabandiera per ogni comune con l'obiettivo di raggiungere il 10% dei voti alle europee e della Forza Italia. Pescara ha circa 1.400 adesioni che dobbiamo raggiungere per la celebrazione di quelle che sono le assemblee cittadine e poi quelle provinciali. Per stimolare quest'azione, oltre ai portabandiera, ogni comune è libero di attuare delle iniziative per le adesioni a Pescara. Questa mattina e la settimana prossima, fine settimana prossima, venerdì e sabato, ci saranno dei banchetti per dare informazioni, delle lucidazioni su quello che è la modalità di adesione al Partito di Forza Italia. Crediamo fortemente nel rilancio dei valori del Partito di Forza Italia. Abbiamo coinvolto tanti giovani per stimolare nuovamente una politica rinnovata da parte dei giovani e trasmettere questo entusiasmo alla cittadinanza. Insomma si cerca di eliminare un po' quello che era il difetto di nascita di Forza Italia, forse quello del scarso radicamento sul territorio. Forza Italia è un partito lideristico, ovviamente il suo leader è Silvio Berlusconi, però l'importanza del territorio è sicuramente fondamentale perché Forza Italia rappresenta milioni di elettori ed è giusto dare stimolo agli elettori che ovviamente oggi purtroppo non credono più come una volta nella politica ma dobbiamo rilanciare questo messaggio positivo per rilanciare l'intero Paese.